A un momento del transito meridiano oggi erano in funzione di sistemi nuvolosi. Questo che viene da Ovest è più alto e questo che viene da Sud è più basso. Per cui era difficilissimo per vedere dove si sarebbe formato il buco. E se c'era un buco appena a Ovest dove sarebbe apparso? A Meridiano. Grazie per l'attenzione. 21 settembre 2023.